Musica 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 Benvenuti ci sono, partecipini, professori Allora, prego, la difesa Grazie, signor Presidente Signor Giudice Allatere, illustri giudici della Corte d'Assise di Como Ufficio del Pubblico Ministero, Avvocati Io intervengo in difesa di Olindo Romano Difendo lui Ed è la prima voce Se mi assiste il microfono Che si alza Davanti a voi per la prima volta A difendere le ragioni dell'imputato Non si è mai difeso Avete sentito la pubblica accusa Avete sentito l'accusa privata Avete sentito anche quello che è il giudizio dell'opinione pubblica Ergazzo l'ho già scritto Vi è stato detto che questo non è un processo indiziario Che è un processo già chiuso Un processo già chiuso sul nascere Un processo da abbreviato La pubblica accusa Vi ha indicato Quelle che sono Le prove a carico Perché dico indicare? Perché A parte la confessione Che è stata mandata in onda in tutte le salse Ha indicato gli altri due elementi Ha indicato L'accertamento tecnico Urgente Operato dalla polizia giudiziaria Il 29 dicembre La famosa macchiolina di sangue Ha indicato Le dichiarazioni Del signor Frigerio Che Avrebbe riconosciuto Olindo Romano come il suo aggressore Questi sono gli elementi di prova E sono elementi Indiziari Perché dico questo? Perché gli elementi di prova Sono sia la macchia Sia le dichiarazioni di Frigerio Sia la confessione Poi devono passare Al vaglio di un giudizio Questi elementi Dovranno essere valutati E voi li valuterete E poi diventeranno Risultato di prova Ci siamo occupati Molto qui dentro Della prova generica Abbiamo toccato poco La prova specifica Questa è la prima voce Dicevo che si alza In difesa di Olindo Romano Siamo stati dileggiati Derisi Offesi Sol perché Stiamo provando A difenderlo E questo è successo In quest'Aula La situazione è Ed era pesante Nonostante questo Noi lo difendiamo Io vi voglio ricordare Quello che è il vostro Giuramento Giudici popolari Ascoltare Le ragioni Della difesa Senza alcun pregiudizio Oggi potrete Ascoltare le nostre ragioni Ma io prima Di esporre Quella che è stata La tematica Affrontata Dall'accusa privata Dall'accusa pubblica Le macchie di sangue Frigerio E le confessioni Perché parleremo anche di questo Come no Anche delle confessioni Vorrei partire Dall'udienza preliminare Perché questo è un tassello Importante L'udienza preliminare Mi ha detto il pubblico ministero Tre parole Disse Olindo Qui dentro In quest'Aula Io sono innocente Fate degli accertamenti Sono preoccupato Per mia moglie E questo sarebbe stato Il colpo di scena Dopo tutto quel fiume Di confessioni Ma già precedute Da Dichiarazione di innocenza E poi sconfessate E su questo sono d'accordo Con il pubblico ministero Sono d'accordo Con l'accusa privata Apro una parentesi E' stata invocata Una nuova confessione In quest'Aula Confessate di nuovo Siete stati indotti A ritrattare Su questo siamo tutti d'accordo Siamo stati sfidati Su questo punto Noi Cogliamo la sfida E ripassiamo la palla a voi Siamo d'accordo Sull'induzione Sulla suggestione Questo è un elemento Su cui tutti quanti Siamo d'accordo Se sono Se è possibile Indurre Una ritrattazione Allora potrebbe essere Certamente possibile Creare una suggestione Per una confessione Questo non siamo noi A dirlo Non possiamo dirlo noi Non lo possiamo stabilire noi Ecco perché poi E ne parlerà L'avvocato Pacia Su questo punto Ecco perché poi Vi faremo anche Una richiesta subordinata Una richiesta Subordinata Volta ad accettare Due profili Il primo Attinente Strettamente Attinente Alle confessioni O anche Alle ritrattazioni Mettiamola così E dicevo L'udienza preliminare L'udienza preliminare Si parte Con questa clamorosa Ritrattazione Della confessione Io sono innocente Io penso Che non sia stato Questo il colpo di scena Dell'udienza preliminare Assolutamente no Il colpo di scena Dell'udienza preliminare È stato un altro Io ve lo voglio esporre Perché l'ho vissuta L'udienza preliminare Sono in grado Di farlo Vedete Olindo Romano E anche Rosa Bazzi Ha affrottato L'udienza preliminare Al buio O meglio La proclamazione D'innocenza È stata al buio Perché dico È stata al buio Perché Pochi giorni prima Dell'udienza preliminare Ci siamo accorti Che mancava Un atto Questo sì Un accertamento Tecnico irripetibile Espletato Dal RIS di Parma Con tutte le garanzie Difensive Che non era Nel fascicolo Del giudice Dell'udienza preliminare L'abbiamo richiesto noi Quell'atto Erano i consulenti Del pubblico ministero E La relazione Del RIS Grazie alla nostra Richiesta Di incidente probatorio È arrivata È arrivata La mattina Dell'udienza preliminare O meglio È arrivato Il nove pomeriggio Presso la segreteria Del pubblico ministero E il dieci mattina È stata consegnata Alle difese Però Dopo Che Olindo Romano Disse le tre famose parole Io sono innocente Ecco perché parlo Salto nel vuoto Olindo Romano Ed i difensori Di Olindo Romano Non conoscevano Il contenuto Di quella relazione Nessuna traccia Sul luogo Della strage Dei due imputati Nessuna traccia Sangue Delle vittime In casa dei Romano Non la conoscevano E dunque Solo dopo L'hanno conosciuta Questo è stato Il vero colpo di scena Olindo Romano La dichiarazione Di innocenza Di Olindo Romano E di Rosa Bazzi È stata riscontrata Da un atto Dei consulenti Del pubblico ministero La relazione Del RIS E che cosa Si voleva fare Di questa relazione Il pubblico ministero Nell'esporre All'udienza preliminare Dopo Che Olindo Romano Disse Io sono innocente Nel sintetizzare Quelle che vi ho detto Le conclusioni Che voi conoscete Disse che non voleva Utilizzarla Non la voleva utilizzare La relazione Dei consulenti Dei suoi consulenti Non voleva utilizzarla Un accertamento Un accertamento tecnico Irripetibile Che già doveva essere Nel fascicolo Del del Gup Si voleva Celebrare per caso Un abbreviato Senza un pezzo Importante Dell'inchiesta E il RIS Cos'è che hanno fatto Hanno impegnato 18 unità Tre sopralluoghi Centinaia e centinaia Di reperti Non la utilizziamo Mi ha dato un consiglio Il pubblico ministero Di darmi una ripassata Al codice Io l'ho fatto Dovrebbe farlo anche Il pubblico ministero Esiste un articolo Il 358 Occorre portare Anche gli elementi A discarico Poi saranno valutati Non hanno fatto Un buon lavoro Questo lo dice Il pubblico ministero Il lavoro Dei suoi consulenti È stato perfetto Questi sono elementi Dati a discarico E non era stato Messa a disposizione Della difesa E quelle sono Le conclusioni A cui giungono Il RIS E questo è un pezzo Della prova scientifica Poi ce ne sono altre Di prove scientifiche Non doveva essere utilizzato E certo Non fa Cozza con l'ipotesi accusatoria Certamente Cozza con l'ipotesi accusatoria E non lo utilizziamo Non ci interessa nulla Della prova scientifica Non utilizziamolo proprio Ma come non utilizziamo Oltretutto E questa mi sembra Almeno a mia memoria Che sia Una cosa importante da dire Non era mai avvenuto Il pubblico ministero Nella sua corposalista Non li indica I suoi consulenti Non esistono Non esistono proprio Il RIS di Parma Non ha lavorato Su questo caso Non esiste I consulenti E il pubblico ministero Sono stati citati Dalla difesa E li avete sentiti E hanno detto Delle cose molto importanti Di cui poi parleremo E molto interessanti Oltre alla conclusione Diventano testi a discarico Teste della difesa L'avete sentito Il lumino Le serve A una determinata cosa Se le superfici Vengono lavate Vi dice Garofano Il lumino Serve per cercare Le macchie E noi le troviamo Carretta insegna L'omicidio di Torino 1998 Dove in una cantina Addirittura Era andata a pulire Una ditta di pulizie Altro che il Mastro Lindo Eppure A distanza di mesi Il RIS È riuscito A trovare le macchie di sangue Tramite il lumino L'aspersione del lumino E qui incredibilmente Seguendo l'ipotesi accusatoria Si sarebbero cambiati In quella lavanderia Di fretta e furia Una finestra E poi la vedremo Questa finestra di minuti Una finestra di minuti E riescono a non lasciare Neanche una traccia Voi avete il filmato del RIS Ha fatto il sopralluogo Il lumino l'ha passato Dappertutto E non ha trovato nulla Ora Si cerca di annaquarlo Quel lavoro E se può essere annaquato Nella parte della palazzina Almeno una parte E non sopra A casa Frigerio Certamente Non lo si può annaquare In casa di Romano Bazzi E questo Questo è un risultato Che ha una valenza significativa Questa è una prova scientifica Poi ce ne sono altre Di prove scientifiche E c'è anche la prova logica Del RIS Ne parleremo dopo Noi abbiamo presentato Delle iniziative Abbiamo presentato Delle iniziative La ricusazione La rimessione E vorrei partire Proprio da quel 2 aprile Dalla data Della ricusazione Vi è stato ricordato Il pubblico di storia Ve l'ha ricordato Vi hanno pure Ricusato addirittura Noi abbiamo pensato Che fosse Legittimo farlo Di avere le nostre ragioni Perché? Perché E' stata mandata in onda Il 2 aprile Ma prima vorrei Accennare Al 31 marzo La chiusura Dell'istruttoria dibattimentale O meglio Non la chiusura Dell'istruttoria dibattimentale Un articolo 507 Che la signor Presidente Ha disposto Erano stati sentiti La dottoressa Vasino Il professor Torre Avevano esposto Le loro ragioni Quello che è stato definito Un prestigiatore In quest'aula Un prestigiatore Per anni 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 Le corti d'assise D'Italia Hanno inflitto Condanne Tramite le consulenze Del professor Torre Tramite le perizie Anzi Del professor Torre Oggi Diventa un prestigiatore Un mago Che con la sua borsetta Fa il giro di tutta Italia E sorprende Dicevo Ecco Noi Certe ordinanze Con tutto il rispetto E con sincerità Con tutta la franchezza Di questo mondo Le abbiamo criticate Le continueremo a criticare Per esempio La lista testi I nostri consulenti Non hanno avuto ingresso Presso la casa circondariale Questo già Sin dall'inizio L'avamo esposto E critichiamo anche Quell'ordinanza Del 507 Cioè far chiudere Un dibattimento Dando la parola Ai consulenti Dell'accusa Che già erano sentiti Chiaramente E' facoltà Di questa corte d'assise Di poterlo fare Noi riteniamo Che fosse stato Utile Disporre un confronto Eventualmente Un confronto Tra i consulenti Tra i consulenti Nessuno enfatizza Dice il pubblico ministero Non vi spende Nessun argomento E' stato detto Lindo Avete sentito Lindo Non lo avete sentito Noi questo non lo sappiamo Lo sapete solo voi Noi abbiamo fatto La ricusazione Perché? Perché riteniamo Che Una perizia Non possa essere Espletata Una perizia Su una perizia E' vero Avete soltanto Amplificato Un determinato file Già in atti Con un programma Che si chiama Il QLEDit Però Mi si è consentito Di dire Che questa E' una materia Delicata Perché qua Non si tratta Soltanto Di una semplice Trascrizione Si tratta Di un nastro Di un nastro Accelerato Di un nastro Che doveva essere Ripulito Ed è stato già ripulito Di un nastro Che in ogni caso Doveva essere Eventualmente Valutato Anche con delle Tecniche D'avanguardia Il nostro consulente L'ha fatto A noi non interessa Cos'è che avete sentito Se avete sentito Lindo Se avete sentito Quello che Noi diciamo Ci sia In quella Cassetta Uscendo Se l'avete sentita Al 100% Se non lo avete sentita Al 100% A noi interessa Che La scienza Ci dice L'analisi Dello spettro Ci dice Che quella Parola È uscendo Vedete Sull'analisi Spettografica Sull'assonanza Delle parole Sono state Spesi Fiumi Di pagine C'è un bellissimo Libro Di Zavattaro Che parla Proprio di queste Assonanze E fa un esempio Lo porta pure Sul dischetto Corte d'appello Corte d'appello Di Reggio Calabria Zavetteri E carrozzeri In dialetto Calabrese Carrozzeri E il carrozziere Zavetteri È un cognome Anche lì C'erano dei consulenti Che ritenevano Di sentire Carrozzeri Altri Che ritenevano Di sentire Zavetteri E lì si è proceduto Tramite l'analisi Dello spettro E in realtà La parola era Carrozzeri E non Zavetteri Zavetteri Era un cognome Era un cognome Tramite quel cognome E si era arrivati A una sentenza Di condanna E c'è stato Un ulteriore Esperimento Un articolo Sul panorama Che è stato fatto Nello scorso giugno Sono stati messi In una stanza Una cinquantina Di periti Trascrittori Gli è stato dato Un testo E tutti quanti Hanno tradotto L'hanno tradotto Tutti questo testo Peccato che il testo L'hanno tradotto In italiano Il testo Era in lingua araba Soltanto due Dei cinquanta Si sono accorti Che il testo Era in lingua araba In un'altra lingua E non l'italiano Ma perché scomodare La scienza Il pubblico ministero Prima di passare Alla logica Vi ha fatto Un bel esempio E gliel'ha chiesto Anche Al nostro consulente L'ingegner Pisani Lei riesce A distinguere Le parole Riesce a fare La distinzione Sentire Tra le tame Salame Cos'è che Ha risposto L'ingegner Pisani Sì Io tramite L'analisi Ello spettro Riesco a capire Se è stato detto Le tame O se è stato detto Salame E così è Ma non c'è bisogno Certe volte Di scomodare La scienza Perché se la conversazione Per esempio Nell'incertezza Tra le tame Se la conversazione Si svolge Davanti a una tavola Imbandita E uno Dice Passami il salame Sicuramente Non sarà All'etame E questo è un dato Di realtà E questo è quello Che è successo Il 15 dicembre Il contesto È molto importante E non porta Alla parola Lindo Davanti al pubblico Ministero Dottor Pizzotti Il quale Ha stilato Un verbale Di sommario Informazioni La parola Del già indagato Olindo Romano Perché era già indagato Già dal 12 Di mattina Dal 12 dicembre Non è stata mai Pronunciata E non c'è bisogno Dicevo Di scomodare La scienza Abbiamo gli elementi Dichiarativi Tanti elementi Dichiarativi Abbiamo la logica Per poter concludere Quello che andremo A concludere 15 dicembre Dicevo Alla presenza Di Un Del Procuratore Della Repubblica Dottor Pizzotti Il quale farà Un verbale Di sommare Informazioni Questo è il verbale Alla presenza L'avvocato Gabrielli Alla presenza Di un medico Alla presenza Di un ispettore Di polizia Frigerio Dirà le prime parole Già vi era stata Una visita Dei carabinieri Il giorno prima È certificato Nei giornali Che vi abbiamo prodotto E già In quegli articoli Che vi abbiamo prodotto I giornalisti Il 14 dicembre Quindi la visita Era stato del 13 Scrivono Che Frigerio Non conosce L'aggressore E andrà a trovarlo Pizzotti E là c'è La famosa Olivastro Non tutte le olive Presidente È vero Sono Olivastre Ma Olivastro Viene detto Occhi neri Occhi neri Vengono detti Capelli sul volto Neri Anche quello Non è di qui Ascoltatelo Viene detto Anche quello Non è di qui Non lo conosco Viene detto Che non lo conosce E in questo contesto Vogliamo inserire Il suo vicino di casa Olindo Romano Il 15 dicembre Prima e dopo Dice di non conoscerlo Il suo aggressore E guardate che Riporta fedelmente Il dottor Pizzotti Quello che viene detto A un certo punto Riporta Ci hanno tattrato Come capre E lo dice Frigerio Lo dice Più di così Non so dire Dice Frigerio Il 15 dicembre Ed allora Il 15 dicembre Verrà discritto Una persona Una persona sconosciuta Con determinate caratteristiche Il 15 sera E anche questo Ci viene certificato Da un fax L'avvocato Gabrielli Avrà un ulteriore colloquio Con il suo assistito Il 16 mattina Questo fax Viene spedito Alla procura Della Repubblica E anche in quel fax Non c'è il nome Di Olindo Romano Il fax Che avete in atti Certifica Che Frigerio Si è ricordato Ulteriori dettagli Del suo aggressore Quindi Anche in quella circostanza Possiamo escludere Che il nome Di Olindo Non l'ha fatto La seconda circostanza E poi Andiamo avanti Tra il 15 E il 20 E questo lo dicono I signori Frigerio I figli del signor Frigerio Il papà Vedrà I figli Li incontrerà E tra il 15 E il 20 Dice il signor Frigerio Il figlio Si tornerà Per due o tre volte Sull'argomento E la descrizione Sarà sempre quella Non si fanno nomi Un aggressore sconosciuto Questo è importante Aggressore sconosciuto Poi particolari Se i capelli Sono neri Li dice Ma la cosa più importante È che dice Che è un aggressore Sconosciuto E lo dice Ai suoi figli Tra il 15 E il 20 Per due o tre volte Il 20 Andrà a parlare Con il signor Frigerio Il luogo tenente Gallorini E fa una notazione Una notazione Dove viene riportato Testualmente Che a un certo punto O meglio All'inizio All'inizio di tutto Cioè all'inizio Del colloquio Investigativo Avuto con Gallorini Frigerio Direbbe Non escludo Che possa essere Olindo Anche il 20 Vedete L'ha detto Anche il luogo tenente Gallorini Non ci sarà Un riconoscimento Di Olindo Romano In effetti Però Le parole Hanno una loro Importanza Perché Non escludo Che possa essere Olindo Ha un significato Ma se una persona Ha una domanda Lei conosce Olindo Romano Questa è la domanda Viene risposto Sì Perché Gallorini Ci dirà Che riporta Le risposte Date Da Frigerio Poi ascoltatevelo Perché si sente Benissimo Le domande formulate Da Gallorini Si sentono benissimo Il nastro del 20 L'intercettazione Ambientale del 20 La potrete ascoltare E allora Cosa dice Dirà Frigerio Di conoscere Olindo Romano Che lo conosce Altra domanda Subito dopo Diciamo per assurdo Se avesse visto Il signor Olindo Romano Sarebbe stato In grado Di riconoscerlo Risposta Penso di sì Non risponde Non escludo Dice Penso di sì Che sarebbe stato In grado Di riconoscerlo Così inizia Il colloquio Investigativo Questo è il primo Pezzo Poi si va Ad altro Perché il colloquio Dura un'oretta Per altri 45 minuti Si parla Della dinamica Dei fatti E anche lì Dirà Olivastro Capelli sul volto I particolari Che ha dato Già prima A quel punto Avrebbe potuto dire Ma è da cinque giorni Che vi sto dicendo Che Olindo Non lo capite Non lo capite Continua a descrivere Un altro soggetto E qui siamo al 20 A un certo punto Della loro conversazione Si ritorna La dinamica Dei fatti Sarà sempre uguale Sempre quella Anche dopo Il 26 dicembre Il 2 gennaio Cambia solo il personaggio Diciamo Verrà detto Ma le ho messo Qualche dubbio Le ho messo Qualche dubbio Che può essere lui O le ho messo Qualche dubbio Che non può essere lui Ci pensi Perché piange No Non volevo Ci vediamo dopo Lei ci pensi Questa è la conversazione Il nome di Olindo Viene fatto Ed il 26 Finalmente Il 26 Si arriva Ad individuare Ottolino Così dice Frigerio Il mio vicino di casa Ottolino Quello che conosco bene Che abita lì Da più di 4 anni Ma vedete Frigerio Frigerio Oltre alle dichiarazioni Assunte Dal dottor Pizzotti Il fax Dell'avvocato Gabrielli Le dichiarazioni Dei figli A cui non fa Il nome Del signor Olindo Per ben 2-3 volte Dice il figlio Il colloquio Investigativo Di Gallorini La prova scientifica E uscendo Non Olindo Ve lo dice Anche il signor Frigerio E noi ci crediamo Ci crediamo Qui Davanti a voi Davanti Alle domande Del pubblico ministero Cos'è che vi dice Quando il pubblico ministero Chiede L'aveva già chiesto prima Giustamente Il 26 Il 2 Perché non l'ha fatto prima Questo nome Lui ve lo dice Io non l'ho fatto prima Questo nome Perché non l'ho fatto prima La risposta del signor Frigerio È perché ci voleva pensare Ci voleva pensare Perché non riusciva a capire Perché il signor Olindo Aveva fatto una cosa del genere E quindi ci voleva pensare Quindi In effetti voi signori Avete colto Il cuore del problema E avete attenzionato Quel nastro Perché questo è il cuore del problema Il 15 dicembre Non dirà Olindo Romano E questo è un dato importante Che dovrete tenere in considerazione Non è tanto Se è Olivastro Se ha i gobelli sul volto Se ce le ha neri Se ha gli occhi neri Che peraltro lo dice Non è tanto Che dica Non è di qui La cosa importante È che dice Che non lo conosce Non lo conosco Il mio aggressore Non lo conosco Non è una persona conosciuta Addirittura dirà E lo dirà il figlio Se voi mi mostrete Delle fotografie O un identikit Perché viene disposto Anche l'identikit Potrei riconoscerlo Delle fotografie Le fotografie Intendono persone sconosciute Non il vicino di casa Ed allora Noi crediamo al signor Frigerio Quando dice che non l'ha detto Quel nome inizialmente Crediamo Frigerio è attendibile Frigerio è attendibilissimo Vi fornisce due versioni La prima Aggressore che non conosco Non è di qui Occhi neri Non lo conosco Fatemi vedere Delle fotografie La dinamica Anche nella prima versione Sarà sempre la stessa Sempre la stessa La dinamica dei fatti E questo è importante La seconda Uguale dinamica Cambia solo il personaggio Diventerà Olindo Romano Noi crediamo al Frigerio E il nostro testo è discarico Ci crediamo Quando dice Non lo conosco l'aggressore Noi ci crediamo E questo voi lo dovete tenere in considerazione Frigerio è attendibile Nella prima parte Sicuramente è attendibile Del perché lo dice A noi non interessa A noi interessa Che dica Che il suo aggressore è sconosciuto Il perché Non lo devo Dobbiamo spiegare noi In buona fede Le teorie Sono tante I falsi ricordi La teoria della compliance In inglese Con piacere Colui che interroga A maggior ragione Si è autorevole E passo oltre Le confessioni Vedete noi durante Sì grazie Mi scusi Adesso mi ero staccato Perché cercavo il fascicolo Come si stacca Dicevo Noi la prima udienza Abbiamo Formulato delle eccezioni L'avevamo fatta anche All'udienza preliminare Nullità Vari tipi di nullità Voi le avete viste Voi le avete viste sin da subito Le confessioni Le avete sentite Ve le ha fatte ascoltare Il pubblico ministero Vi ha fatto vedere Dei pezzi della Bibbia Dei brani Della signora Bazzi E insomma Le conoscete bene Le conoscete molto bene Ora le dovete leggere Le dovrete leggere Con attenzione Noi abbiamo fatto Quelle eccezioni Di nullità E le riformulo Anche in questa sede Richiamandomi E riportandomi A quello che è già stato detto Non perché Per evitare la sostanza Perché noi Andremo a affrontare La sostanza La vorremmo affrontare Sin da subito Le conosce tutta Italia Le confessioni di Olindo Ma perché ritenevamo E riteniamo Che la forma Sia importante Anche per la sostanza Sia molto importante Perché vedete Questo è in tutto I paesi Qua Cioè Bisogna fare una distinzione Ecco proprio Sugli elementi di prova La confessione È un elemento di prova Però Rispetto a tutti gli altri La prova scientifica La prova dichiarativa La prova Logica È il più sospetto Maneggiare con cura Questo dice La migliore dottrina La migliore giurisprudenza Non è che ce lo inventiamo noi Qua ci sono proprio Io ho portato un libro Sulle confessioni Poi vediamo Se c'è il tempo Per leggerne qualche passo Le cosiddette Confessioni indotte Di cui È piena la storia giudiziaria Quella italiana Quella anglosassone Americana Non sarebbe la prima volta Non sarebbe la prima volta Che due persone Si accusano di crimini Che non sono stati Commessi da loro Anche con i dettagli Perché quando uno confessa Può confessare Senza dettagli E con i dettagli In questo caso Fortunatamente ci sono i dettagli E sospetta perché Perché un processo Questo si chiama Signori illustri giudici Il processo accusatorio Processo accusatorio Dove accusa E difesa Stanno davanti a voi Con gli stessi poteri E gli stessi doveri Anzi I doveri sono diversi Dove si contrappongono Per far scattare Una scintilla Così dicono gli illuminati Che possa Illuminare la mente Dei giudici Questo è il nostro sistema Una contrapposizione Tra accusa E difesa E allora dicevo Le confessioni Sono sospette Dice la giurisprudenza Quando vengono rese Davanti All'autorità Inquirente Ma mi si dirà Ma c'era un difensore C'era un difensore D'ufficio Un convitato di pietra Ad assumere questi atti E noi la forma Vogliamo e dobbiamo Noi abbiamo il dovere Dobbiamo cercare Che venga rispettata Questa forma E la signor presidente Fece una domanda A un teste Dottoressa Mercanti E a pagina 79 Del 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 suo esame Dell'esame Dottoressa Mercanti E chiese proprio questo Ma Ebbe modo Di parlare Dei fatti Che in realtà Aveva fatto Una confessione Che coinvolgeva Che coinvolgeva Anche l'altro Coinvolgeva Anche l'altro E lei l'ha capito Presidente La nullità L'incompatibilità Eclatante Peccato che la vostra ordinanza Non si sposa Non si sposa con la sua osservazione Perché vedete A nessuno di noi Piacerebbe trovarsi In quella situazione Con un'accusa Così pesante Senza vedere un avvocato Nonostante ne avessero Il diritto Il diritto di vedere L'avvocato Loro ce l'avevano Non dovevano vedere I carabinieri Ma l'avvocato sì L'avvocato Dovevano vederlo E sapete perché Dovevano vederlo? Perché in effetti C'era Un decreto Di differimento Dei colloqui E già questo Poi vi leggerà Il passo L'avvocato Pacia Ciò che dice Appino Corrias L'avvocato Troiano Quello che è accaduto Quel giorno Non è venuto qui A testimoniale Però Lo dice Quello che è accaduto In quel giorno Su quel libro Dicevo C'era un decreto Di differimento Decreto di differimento Dei colloqui Che perde però Efficacia Perché il decreto Di differimento Il codice Dice procedura penale Vuole che possa Essere messo Anche dal pubblico Ministero Ma entro un certo periodo Le 48 ore Deve essere convalidato Da un giudice Un giudice I pubblici ministeri Sono andati Per la seconda volta C'erano stati L'8 gennaio A raccogliere Una dichiarazione Di innocenza Di 100 pagine Particolareggiata Nessuno ci ha creduto C'erano già stati Dagli imputati E il 10 Ritornano Abbiamo prima Il colloquio Con i carabinieri E però lì Prima di vedere I pubblici ministeri Anche i pubblici ministeri Anche i pubblici ministeri Avrebbero avuto diritto A vedere l'avvocato Perché il decreto Di differimento Di colloqui Era scaduto Ecco perché Abbiamo fatto l'eccezione Poi una nullità relativa Doveva eccepirla Il precedente avvocato Siamo decaduti Doveva essere eccepita Subito Si può discutere Si può discutere Su questo Ma è certo Che la forma Non è stata rispettata E poi il decreto Di differimento Deve essere convalidato Da un giudice Il giudice Nell'udienza di convalida Il GIP Non lo convalida Quel decreto Di differimento È come se non esistesse più Non è mai esistito Eppure non hanno visto Il loro avvocato Io dicevo All'inizio dissi Siamo un optional È vero Siamo un optional Siamo derisi Attaccati Dilipesi Ma non dovete temere questo Perché è prassi Nei manuali di retorica Quello che è stato fatto Dal pubblico ministero E dalle parti private Si chiama tecnicamente Attacco ad hominem Ne parla bene anche Schopenhauer Denigra Attacca E vedrai che ha ragione Inquina la fonte De legittima È un tipo di approccio È un tipo di approccio Contemplato nei manuali di retorica È uno dei tanti tipi di approccio Che vengono utilizzati Nelle aule di giustizia Quello più bieco E dicevo Quindi L'avvocato Non lo vedono E allora loro che sono indagati Dall'11 dicembre Dall'11 notte Poi vedremo che è successo L'11 notte Verranno sottoposti Già dai carabinieri A degli interrogatori Da prima Si chiamano tecnicamente Sommare informazioni Poi continuano a essere Sommare informazioni E loro ripetono Sempre lo stesso fatto Non siamo noi Siamo andati qua Abbiamo fatto questa Ne abbiamo fatto quest'altra E nessuno ci crede L'8 gennaio verranno prelevati Avete sentito L'avete sentito Dalle dichiarazioni spontanee di Olindo L'avete sentito dai testi Questo lo sapete L'avete in atti Vengono portate al carcere del Bassone Con un'accusa infamante La strage di erba Vengono sentiti però Ore e ore e ore e ore e ore e ore Ci sono centinaia di pagine Ce le avete in atti Tutte e due Divisi E daranno sempre la stessa versione Sempre quella Siamo innocenti Quindi prima di una confessione Già prima C'è una dichiarazione di innocenza Ce ne sono tre Tre Dichiarazioni di innocenza Ma nessuno ci crede La mattina del 10 Arrivano Due carabinieri Li abbiamo sentiti Il maresciallo Cappelletti E il maresciallo Finocchiaro Uno dei due È autorizzato Perché deve andare a prendere Delle impronte In carcere si può entrare Soltanto per determinati motivi Gli inquirenti possono entrare Altrimenti non lo possono fare E questo È fuori di dubbio Addirittura Scusate Voi gli avete fatto vedere l'avvocato Avevano diritto di Di vederlo Perché devono vedere due carabinieri Perché Però Se vanno per prendere le impronte Lo possono fare Qualche minuto ci vuole Per prendere le impronte già prese Il maresciallo Cappelletti È autorizzato Per prendere le impronte Il maresciallo Finocchiaro Non ha alcuna autorizzazione Nessuna Entrano in due Chiamano l'Indo Avete sentito il maresciallo Cappelletti Eh sì Si voleva liberare la coscienza Ha detto il maresciallo Finocchiaro Che se si voleva liberare la coscienza Poteva dire Chiamavano No E poi in tre minuti Inizialmente sono tre minuti Tre minuti Piano piano diventano molti di più Poi alle domande dell'avvocato Bacia Diventano ancora di più E poi diventano Quattro ore Per prendere le impronte digitali Quattro ore Dove si parlava Di Accertamenti Prove Liberarsi la coscienza Sconti di pena E questo ve lo dice pure il maresciallo Finocchiaro Ve lo dice Sconto sì Io gli ho detto che ci potevano essere uno sconto di pena Che ne so Attenuanti Vi dice Se si liberava la coscienza E cos'è che vi dice il maresciallo Finocchiaro Vi dice pure che a un certo punto l'indo dice Ma mia moglie non c'entra niente E il maresciallo Finocchiaro risponde Ma allora se non c'entra niente Tu sai qualcosa Dicela Ve lo dice il maresciallo Finocchiaro Questo dice il maresciallo Finocchiaro E quindi tra un canarino E un discorso sul camper Si parlava dei fatti Occorsi la sera dell'11 dicembre Si parlava di questo E se ne è parlato per quattro ore E arrivano I pubblici ministeri Che vengono chiamati Dal maresciallo Finocchiaro E Olindo Verrà sentito Verrà sentito Alle 14.30 se non sbaglio Dirà ai pubblici ministeri Cercherà Di consigliarsi Con loro A che cosa va d'incontro Gli chiede Cos'è che mi aspetta L'ergastolo L'ergastolo E in effetti Questa è la pena Per questi reati L'ergastolo Gli viene detto Questa è la prima parte La prima parte Della confessione Quella che almeno porterà Olindo a confessare Anche in questo caso Inizia lui Come vi ha ricordato Il pubblico ministero Io adesso Tutto 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 Non me lo ricordo Proprio tutto E dice il pubblico ministero E questo L'unico momento In cui non ricorda Poi vedremo anche questo Abbiamo delle prove Che sono dei macigni Noi la invitiamo Prima che il GIP Decida Su chi sta in carcere E chi non sta in carcere Di dirci la verità Anche perché Con le carte messe Così Il GIP Non decide Diversamente da noi Il GIP deve decidere Nel nostro sistema Processuale Quindi Dice il GIP Il signor Olindo Romano E' facile che resto dentro Non solo io Ma anche mia moglie Non è facile E' praticamente certo Il GIP ancora Non ha deciso niente Comunque adesso Noi ci fermiamo Se lo faccio a spiegare Dall'avvocato E l'avvocato Glielo spiega bene Guardate come glielo spiega Troiano Ci sono degli indizi Gravi a suo carico Anche se io Non ho potuto Vederli direttamente Ma ci sono Non li ha visti Ma ci sono Il GIP Questo Ritorniamo al pubblico ministero In questo momento Riteniamo Che non possa decidere Diversamente Che mantenere la misura Per entrambi Ascolti Ancora il pubblico ministero Uno Se ha una via d'uscita La imbocca E scappa Ma quando la via d'uscita Non c'è Perché la situazione Si fa seria E quando lei Si trova domani Una corte d'assise Non è che ha visto Una sola volta Triggerio O allora Se una via d'uscita Non c'è Meglio contenere Il danno Cioè dire Ok Ho avuto 20 minuti Si è spenta La luce E la cosa In qualche maniera Prende anche Un altro significato Adesso come adesso Risponde il signor Romano Io stavo pensando A un'altra cosa Adesso come adesso Questo può essere Il minore dei mali Giusto Sia per me Che per mia moglie Giusto Quello che dovrei fare adesso Non lo posso fare Dopo aver sentito Il GIP Senta Pubblico ministero Ma noi non torniamo più Per noi Oggi è chiuso Il processo Il processo è chiuso Con quello che abbiamo Lei può dire Tutto quello che vuole Per noi non vale più Ha capito Ve l'ha spiegata La democrazia Il pubblico ministero Sì ma oggi Sì Ma farlo domani Piuttosto che oggi Che vantaggio le dà Lei vuole parlare Con un giudice Questo è l'avvocato Troiano Romano Allora facciamo così Dopo domani Io vengo interrogato Già da un giudice Posso parlare con lui Ma certo Nessuno dice Che non può parlare Lei parlerà sicuramente Con un giudice Romano Questo io non lo sapevo Se no Non vi avrei disturbato Ed il giudice Mi chiederà Quello che mi avete chiesto voi Giusto Sì Pubblico ministero Ci mette cinque minuti Il giudice Le dice quello che lei Ha detto a noi Lei confermerà quello Firma e se ne va Emette la misura cautelare Cioè vuol dire Che sta in carcere Siamo noi Che abbiamo il procedimento Le dico questo Se lei ha argomenti Per dirci Guardate che non sono stato io E ve lo dimostro Perché c'è questa cosa Schiacciante E il signor Romano risponde Anche questo pensavo E che adesso Non mi vengono in mente Altri particolari Oltre quelli Da fornirvi Come prova schiacciante Dell'innocenza Non so cosa pensare Non so cosa dire Non lo so Lasciamo stare Parlo con il giudice Ma cosa cambia Parlare con il giudice Non lo so Forse un attimino Più di tempo Per pensarci Senta Lei però ha chiesto Di poter parlare Con sua moglie Romano Sì Che poi avrebbe parlato Con noi Abbia presenza Lei sa benissimo Perché l'ha fatto Ho capito Io l'ho fatto Per vedere mia moglie L'ho fatto Dico la verità L'ho fatto per quello Perché era un po' Qualche giorno Che non la vedevo Era l'unico modo Che avevo per vederla Posso andare Ascolti un attimo Da mia moglie E torno Un secondo e basta No Possiamo fare un'altra cosa Terminato questo interrogatorio Poi magari parla con sua moglie Anche lì Se lei ha elementi Per spiegarci Differenziazioni Di posizioni Ci pensi Le tira i fuori Io adesso Come adesso Io già l'ho fatto Ho chiesto Quel casino Qui per vedere mia moglie Perché non me la facevano vedere Sinceramente L'ho fatto solo per quello In un certo modo Qualche modo Sì Perché volevo vedere mia moglie Volevo vedere Però mi hanno detto Se fa l'interrogatorio Ti faccio vedere mia moglie Si sta riferendo Ai marescialli Probabilmente Non è esattamente così No beh Più o meno Io l'ho fatto per quello Per vedere mia moglie L'ho fatto solo per vedere mia moglie Insiste Senta signor Romano Avrà tutto il tempo Davanti al GIP Di precisare E di spiegare Di difendersi Ma un conto è difendersi Ha fatto un centinaio Di dichiarazioni In precedenza Di innocenza Dicendo L'asino vola E un conto Dicendo cose Io non so cosa fare Non so sinceramente cosa fare E poi Ve ne salto un pezzo E giungo alla fine Dirà Il signor Romano No Io rinunco Va bene Dice Pubblico Ministero Lei mi ha appena detto Vi ho convocati Perché volevo dire la verità Quindi Se noi adesso Ce ne usciamo Da questa stanza con lei Che sta zitto Significa che lei Rinuncia a dire la verità Sentite cosa dice Romano Sentitela No Io rinuncio a dire la verità O confermo Quello che ho detto Fino all'altro giorno Rinuncio a dire la verità O confermo Quello che ho detto Questo dice Romano Poco prima di confessare Che deve rinunciare A dire la verità E poi Si arriva Fino alla fine Continuerà Fino a un altro po' Poi dice Guardi Riconfermo tutto Finisce così Non lo so Guardi Non posso vedere Posso vedere mia moglie Posso parlarci No Basta Sua moglie Viene trasferita Di carcere Da un'altra parte E lei non la vede più Finisce la prima parte Della sua confessione Ma prima 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 Di confessare Sconfessa la confessione Alle 14.30 Romano avrà un colloquio Con Rosa Bazzi Espone cosa gli hanno detto I carabinieri Questo riscontro A ciò che vi ha detto Lindo Romano Ciò che vi ha detto Il maresciallo Finocchiaro Romano parla di Sconti di pena Attenuanti Abbreviato E ancora Non ha visto il suo avvocato Non ha visto nessuno Ha visto solo i carabinieri Il minore dei mali Dice a sua moglie Il minore dei mali Ascoltiamolo Dicevo A un colloquio Nel carcere del Bassone Sono Cinque Sei minuti di colloquio Entra alle 14.30 Arriva Le 14.30 Dicevamo Aveva visto già i marescialli Spiega alla moglie Cosa Dissero Gli attenuanti Quello che gli stavo dicendo Gli lo dice Rosa Questo Può essere Per noi Il minore dei mali Rosa risponde Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.